Ok ragazzi, abbiamo cambiato posto, come avete visto l'ultima volta, nel scorso video Raga, abbiamo visto un signore, siamo spaventati, guardate raga, è aperto Ok raga, guardate Certo, ti immagini? Eh? Questa è la stanza Porco due, vende, vende Sotto? Eh Che sotto sono Ok Qua ci saranno i peggiori ragni del mondo Quante stanza ci sono? Già Che fritto Oggi I vini I vini Questa era una villa allora Ho lasciato la scuola Perché hanno lasciato la scuola 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 Questa porta prima non c'era Ok Vico se è grande Perché non l'ho vista prima io? Non c'era Ok Sotto finito Proprio il rosso Fico se è infatti Non so perché è così Sì 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 Non c'era È il momento Non c'era Cosa? 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 Non lì? Non lo so Eh, va bene Oh, cazzo, quant'è questo Quanto cazzo è grande? Ma scolli Ma guarda che da fuori non era così grande Raga, da fuori non era così grande No, 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 no Perché mi sembra una strazzata A me non piace tanto Eh, bravo, è vero Ma comunque da fuori non era così grande Qua c'era il fuoco Quanti fuochi Cazzo, ragazzi Ma da fuori non era così grande Scusi Raga Non mi piace Ma poi da fuori non era così grande Ma c'era questa stanza prima Sì Però È troppo vecchia C'è vecchia questa casa Sì Andiamo qua, andiamo qua Qua ci sono stati, scusa Ma scusami, ma perché? Che c'era Sì, ma non sembrava così grande Dai Che spavento C'è qualcosa per terra C'è qualcosa per terra Corriamo fino alla 3 1 Vieni 4 Vieni 4 6 4 5 6 100 6 6 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 12 13 Grazie a tutti